La tossicodipendenza, invece adesso nel serdon si affrontano solo le tossicodipendenze, ma tutte le forme di dipendenze, incluse quelle relazionali, quelle... Scusate ma viveva di solitudine, di lavoro, caro. Posso dire una cosa seria, che è importante, che non può dire Valerio, perché poverino, cioè non può sempre dire non vi ammazziamo, venite pure tranquillamente, ma è così. Sono due le cose che spaventano, secondo me, l'utenza, sia psichiatrica che per gli psicologi. Sono fottuto. E la terza è che tu mi costringa a venire da te. Nessuna di queste cose... Possiamo dire che nessuna di queste tre cose è vero? No. Il cane non ci crede. Guarda che questa è una roba da influencer unfair, cioè quelli che fanno vedere... Cioè se eri una donna avresti tirato fuori le bocce per farle vedere.